Ho superato questo cane malvagissimo, no a seguirmi, don't follow, do not follow me, ringhio, wait, faticchiare amicizia lunga, eh? Ah, sono riuscito a fermare, ringhio. Su quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno c'è il sentiero del Viennante, oggi sono a Dervio, la torre di Orezia dietro di me, quinta tappa, Dervio e Bellano, buona gita! Dunque la traccia che sta seguendo mi porta alla chiesetta di San Quirico e Giulietta con il suo campanile medievale Longobardo e però non trovo i segnali, troverò un segnale? Lascio il paesino di Dervio, Crotto del Cech, qui ci sono le scale, dietro di me il segna via o finalmente entriamo un pochino nel bosco spero? It's burning inside me, it's burning My heart is catching fire, I just feel so Per quanto riguarda i segna via? segnavia del sentiero del viandante quelli rossi classici poi trovate i segnavia delle vie del viandante c'è anche un'applicazione bellissima dove c'è la traccia gps che si può seguire gratuitamente fatta molto bene e i segnavia sono posti nei luoghi giusti per non perdersi quindi top le vie del viandante in località pendaglio saliamo le scale a sinistra iniziamo a salire speriamo non sia tanta la salita che bel sole che c'è e che panorama paceschissimo veramente stupendo la 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 lalala carne bella gita oggi veramente un bel posto sono qui al santuario delle madonna delle lacrime di lezzeno sono praticamente a bellano tra poco scendo facciamo un bel giro lungo lago e poi c'è il treno il treno che parte ringhio è tornato mi ha abbaiato ciao ringhio ciao vediamo se riesco a fregarlo ciao bellissimo ciao ho superato questo cane malvagissimo no a seguirmi don't follow do not follow